Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso, tra Monte San Savino e Arezzo e tra Calenzano e BVO1 variante di Valico. In FIPILI per lavori possibili disagi, tra Montelupo e Ginestra Fiorentina, sempre in FIPILI e chiusa all'entrata, in Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, e l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Il stantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla SP12 e sull'autostrada 11. Chiudiamo con il traffico aereo il volo Firenze-Praga di Vueling delle 14.55 e segnalato in partenza alle 17.55. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!